Non è un bel momento per i gestori proprietari di impianti sportivi. All'Aquila a rischio c'è anche la piscina comunale che potrebbe chiudere se non arriveranno aiuti. Dall'inizio della pandemia, con l'apertura a intermittenza, i costi sono lievitati perché la piscina seppur chiusa ha dovuto mantenere manutenzione utenza e tutto il resto. Il grido di dolore è arrivato da Gianni Benevieri che gestisce la comunale. Forse un mese si riuscirà a tirare, ma poi non più. L'aumento delle bollette si sente come è una piscina, un impianto che ha costi di gestione elevatissimi. L'ultimo bimestre ha portato bollette che salate a dire poco, 35.000 euro di gas, 15.000 di luce, 9.000 di acqua per fare degli esempi. E poi tutte le uscite dovute alla pulizia, ai materiali necessari, al personale, un quadro nero, nerissimo. Benevieri aveva già pensato di chiudere a gennaio, ma poi ha prevalso la voglia di permettere ai ragazzi di fare sport e ai dipendenti di lavorare. Ma ad oggi non si travede un futuro. Tutto questo mentre per la piscina di verde acqua ancora non si vede la luce, è pronta la nuova gara, ma non si hanno certezze sulle tempistiche. Purtroppo, per esempio, questo impianto non ha mai potuto chiudere, perché chiudendo, essendo un po' obsoleto, ovviamente ci sarebbero stati dei gravi problemi per riavviare l'impianto. Quindi già c'è stata una spesa elevata, in questi due anni dovuta alla chiusura, di circa 180.000 euro, senza che entrassero le quote degli iscritti, perché non c'erano. Siamo arrivati a settembre e siamo ripartiti, con tanta buona volontà. C'è stato un momento in cui la gente è tornata, poi è scoppiato quest'ultimo problema del Covid, dell'ultima variante, per cui potete anche vedere la piscina ha subito un enorme disagio dovuto agli utenti che sono venuti a mancare, perché ovviamente un po' per paura, un po' per contagio, sono rimasti a casa. Nel frattempo è scoppiata la bomba finale, cioè l'aumento dei prezzi delle bollette. Mi dispiace, perché io qua ci tengo, come si dice, il cuore, perché la mia non è una professione che sto qua, è una passione. Vedere questi ragazzi che nuotano, questi bambini piccoli che sgambettano dentro l'acqua, per me è una cosa bellissima. Ed ecco questo il motivo per cui ho cercato di tirare avanti finché era possibile. Adesso sono arrivato al limite, cioè o c'è un aiuto da parte della regione, perché io parlo della regione, capisco che il comune forse ha qualche difficoltà, ma la regione con un po' di buona volontà forse potrebbe fare qualcosa come ha fatto per gli impianti di sci. Quindi o la regione capisce questa situazione, ma non soltanto a questo punto della piscina comunale dell'Aquila, ma di tutto l'Abruzzo, perché teniamo conto che di 40 impianti un terzo già chiuso. Quindi questa è la situazione reale. Quindi o interviene nell'immediato la regione, oppure è arrivata alla fine di febbraio con le lacrime agli occhi, ma qualcosa dovrò fare, cioè chiudere. Questo purtroppo, perché come ho fatto la battuta già in un'altra intervista, non mi posso vendere la casa. Già ho dato troppo, credetemi.